Per aver dato lustro alla città nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, questa è la motivazione che ha spinto l'amministrazione comunale di Barletta ad intitolare l'ex sede della Banca d'Italia alla memoria di Vincenzo Desario, per 50 anni figura di spicco della banca centrale del nostro paese. Nel ruolo di ispettore della vigilanza si occupò dei principali scandali italiani, come quelli che negli anni 80 travolsero Michele Sindona e Roberto Calvi, poi dal 94 al 2006 ricoprì la carica di direttore generale. Profondamente legato a Barletta, la sua città natale, Desario è scomparso a Roma a fine novembre 2020, domenica avrebbe compiuto 90 anni. Lo ricordano con orgoglio la moglie Luciana e i figli Davide e Gabriella durante la cerimonia di scoprimento della targa a lui dedicata. Presenti anche il capo Dipartimento Vigilanza della Banca d'Italia, Giuseppe Siani, la direttrice centrale dell'Associazione Bancaria Italiana, Francesca Palisi, le istituzioni del territorio. È stato un uomo importante nel passaggio della lira all'euro e sono davvero orgoglioso che lui sia stato un barlettano. Io ero orgoglioso di lui quando sentivo nominare in televisione, quando lo vedevo insieme a uomini come Ciampi, Draghi, Guido Carli. Quindi è un atto non soltanto un dovere istituzionale ricordarlo e dedicargli questo palazzo. È anche un modo per ringraziare per ringraziare quello che ha fatto, per aver portato sempre Barletta nel suo cuore. D'altronde un uomo simile noi ce l'avevamo a Barletta, era quell'uomo che diceva soffri e sogni. Quindi io paragono Desario a Mennea, uomini di tutti e due barlettani che hanno portato Barletta nel mondo, perché sono uomini che hanno sofferto e hanno lavorato e hanno raggiunto i loro sogni. Per oltre due mesi Desario ha ricoperto anche la carica di governatore della Banca d'Italia, rimasta vacante dopo le dimissioni di Antonio Fazio. Al momento di andare in pensione, il numero uno di Banca Italia, Mario Draghi, lo ha nominato direttore generale onorario, sottolineando la sua statura di persona mai incline ai compromessi. La brillante carriera che lo ha portato a dialogare con gli uomini più influenti al mondo, dicono i suoi familiari, non gli ha mai fatto dimenticare le sue origini. È un uomo che è cresciuto a Barletta, che ha fatto una lunga carriera all'interno della Banca d'Italia fino a diventarne il numero due, il direttore generale. È un uomo che si è sacrificato molto, non ha mai dimenticato le sue radici, non ha mai dimenticato le persone meno fortunate ed è rimasto molto legato a questo posto. Ieri siamo venuti qui con mia madre e a Viale Marconi ci ha fatto vedere il pezzo di basolato dove si sono dati il primo bacio. Senza quel bacio oggi non saremmo qui e tante altre cose non ci sarebbero. Quindi è un cerchio che si chiude. Non posso che ringraziare il Comune di Barletta, il Sindaco, gli assessori per questa iniziativa che ovviamente ci si stringe il cuore e ci rende, io non pensavo fosse possibile, ma ci rende ancora più orgogliosi di Vincenzo Desario.